Le gare casalinghe per la Fidelissandria saranno di cui alla fine del campionato le partite da non fallire poiché quasi tutte sono scontri diretti per la permanenza in Serie D. Con questa consapevolezza il tecnico Giancarlo Favarin, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica e non sarà domani in panchina, ha preparato il match che domenica la squadra bianca-azzurra affronterà il Degli Olivi contro il Gladiator, un vero e proprio scontro diretto. Ci resta solamente un risultato da poter percorrere perché la vittoria per noi sarebbe importante vista anche la classifica e quindi sarà una partita molto ostica contro una squadra che in questo momento sta anche bene dopo un buon risultato di domenica scorsa, quindi sarà una partita da prendere con le molle. La formazione di Santa Maria Capoavetere ha nelle sue corde risultati importanti come quello di domenica scorsa contro il Bitonto ma in casa Fidelis si pensa alla necessaria reazione dopo un match negativo come quello di Cerignola. Contro l'Audacia, al di là della forza del collettivo giallo-blu, si è visto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Tanti errori individuali, tanti errori anche di reparto e poi contro una squadra come Cerignola non te li puoi permettere inevitabilmente abbiamo perso una partita direi in maniera vergognosa chiaramente dovevamo fare qualcosa di più se non altro dal punto di vista agonistico. Una settimana non facile in realtà, caratterizzata anche dall'episodio di cronaca che ha scosso l'allenamento pomeridiano del mercoledì della formazione di Favarin un episodio da condannare senza sé e senza ma, quello nei confronti del DS Moscelli ma che il tecnico toscano non ha debita alla tifoseria andriese. Brutta cosa, però insomma ci tengo, secondo me, a... voglio pensare che i tifosi dell'Andria sono al di fuori di questa situazione che si è verificata sarà sicuramente qualcuno che non merita eventualmente di essere il tifoso dell'Andria. Tutta la rosa sarà finalmente a disposizione non ci sono acciacchi ma soprattutto rientrano dalle squalifiche sia Porcaro che Montemurro oltre alla possibilità di schierare anche Langone, uno degli ultimi arrivati in casa Fidelis provabili, dunque diverse novità rispetto alla gara contro Cerignola. Stanno tutti anche abbastanza bene dal punto di vista atletico e fisico e adesso c'è la scelta da fare e anche in corsa ci sono altre soluzioni per cambiare la partita.